Niente, il lavoro di oggi è stato un lavoro di sfrascamento vario che può essere utilizzata soprattutto questa zona qua per inventarci qualcosa Le motoseghe più amate dagli animali Davide Mi scelta dove sei? In diretta ad Osca Park con l'auto della nuova struttura Vai, Faffo Style Porca miseria, la terra è secca e arida Sono due mesi che non piove, sembra un deserto Ok, andiamo al plano Allora qua abbiamo il primo panettoncino Con accanto la struttura di legno per fare il drop Il panettone grosso Con il curvone Il panettoncino piccolo E' un fascino E' il cappello Così va bene Un po' meno Un po' meno Basta adesso Basta Un po' meno 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 Un po' meno